stiamo stiamo attenti a come fare la messa in tavola ok ok allora dunque noi abbiamo l'importante è salvare ok dovete salvare sempre a questo punto faccio posso anche andare qua semplicemente tasto destro il mio caso è che io ho già il disegno ok dunque lui mi dice apri il disegno ok però se no io fa dovrei fare file crea disegno dalla parte ok primo step fondamentale è scegliere il cartiglio cioè il formato scusate il formato del foglio ok non abbiate paura scegliete uno quello che più pensate che sia adatto però se dopo scoprite facendo le varie viste che non era quello adatto potete sempre cambiarlo dunque non abbiate paura che quello diventa fisso potete sempre cambiarlo naturalmente molti ragazzi poi dicono caschetta però io non ho il cartiglio pronto cambiando perdo tanto tempo potete anche già aver a posto il cartiglio già preparato per i vari quattro formati poi io cerco di non farlo non ve lo faccio apposta il cartiglio anche se da noi c'è già fatto c'è solo sulla 4 e se non sbaglio anche sulla 3 sì 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 io cerco di non farlo perché perché la più grossa critica che i docenti fanno i docenti che non vogliono utilizzare il 3d fanno al all'uso del 3d è quello che i ragazzi non capiscono le proiezioni la differenza tra proiezione americana ed europea a questo punto io non voglio fare il cartiglio apposta perché e non voglio neanche settarlo in europea perché di solito è sempre settato in americana proprio per costringervi a pensare ok a pensare alla differenza tra proiezione americana ed europea e questo è proprio una delle più grosse critiche che fanno cioè i ragazzi si abituano a disegnare in 3d e dunque non hanno il concetto di della differenza della differenza della proiezione ok questo può essere anche vero ok ecco perché io diciamo sul cartiglio voglio che ci sbattete la testa voi ok anche se io adesso vi farò vedere come andarlo a fare però io non tra virgolette arrangiatevi ok proprio per questo concetto perché ripeto la più aspra critica è questa qua naturalmente bisogna anche però capire una cosa nel senso che il mondo cambia e certi certe cose che erano importantissime importantissime una volta adesso sono un pochino meno sono sempre importanti perché oggi a mio avviso anche se qualcuno sostiene già tanto si trova tutto su internet non è vero che si trova tutto su internet perché se si trovasse tutto su internet a questo punto un'azienda non ha bisogno del disegnatore perché trova tutto su internet ok a meno di colui che che crea i pezzi in 3d dunque non si trova tutto su internet cose particolari difficili assolutamente non si trovano ok perché anche se si trovano dei macchinari così via non sono completi dunque comunque bisogna sempre sapere usare lo strumento per disegnare sapere usare dunque vabbè comunque ricapitolando dunque io vado qui la prima scelta è scegliere il mio formato ipotizziamo che conscio del fatto che probabilmente dovrò andare in a3 io scelgo la 4 così dopo proviamo a cambiarlo ok dunque io qua le prime cose che ho qua vedete che ho già visualizza tavolozza ho già le mie viste ok dunque quella che a mio avviso magari a me serve subito è questa qua davanti e dunque la trascino tenendo il tasto sinistro la trascino ok e chiudo vabbè posso fare le altre viste ok però non volevo le facciamo dopo ok dunque faccio esche ed esco e salvo dunque io faccio file salva e salviamo camme casma sisma quarta ok dunque salvo dunque sono qua con la camma dunque va bene così o queste cose le sapete già ok va bene va bene allora ok prima cosa ok prima cosa da vedere è sarebbe da fare il come si chiama il cartiglio ok questa qua però la primissima cosa controllate sempre ok controllate sempre che sia in europea ok se volete fare l'europea se volete fare l'americana e controllate che sia americana allora io adesso per controllare faccio questo già si potrebbe fare in un altro modo ma io adesso voglio perché per farvi una domanda a voi dunque io vado qua in vista ok vista proiettata prendo questo ok esposto qua ok quando voi volete vedere in che posizione siete voi quando cliccate qua potete girare questo e dunque vedete io sono se poi sono nella posizione con questo qua davanti non sono in questa posizione dietro ok se voglio essere sicuro poi faccio così e torno nella posizione normale adesso chi è che mi dice se qua siamo in europea o americana c'è se europea quella sotto dovrebbe essere con c'è al contrario dunque noi cancelliamo qua ok cancelliamo sai come andare a cambiarla e non c'è tipo le impostazioni americane usa dunque noi a dove andiamo in ricordi no sarà impostazioni sicuramente allora scusate un attimo ripeto vado qui in proprietà ok e mi si apre questa ok qua io vedete che è il terzo angolo voi ogni volta dovete ricordarvi che dovete metterlo il primo angolo ok una delle cose che io guardo è se vi avete messo il primo angolo dunque apro il cartiglio proprio per questa queste questo fatto del come si può dire che c'è una forte critica sul 3d per questo dunque voi o usate il cartiglio della scuola o se usate questo dovete ricordarvi come settato e non ve lo setto apposta che da perché si può settare che in automatico venga fuori primo angolo è ma non ve lo setto apposta proprio per questo così ogni volta vi ricordate la differenza che c'è tra americana e proprio per questa critica ok ma c'è come si dice molti di voi lo sapranno ma magari comunque è sempre meglio ricordarselo ok dunque scusate un attimo e qua io ho la scala diciamo dunque componente importante quando io vado in opzioni ok è tipo di proiezione che in americano nella concezione americana no americana va beh si può l'europea si può chiamare anche primo angolo e mentre quella americana si chiama eh terzo angolo eh o proiezione americana secondo voi qual è la più intuitiva tanto per chiedervi e qua è la scala quella generale ricordatevi che questa è la scala del foglio quella che viene messa in automatico qua ok state attenti che questa è fonte di errori ok ci siamo questa qua che voi avete qua è quella che io ho proprietà qui ok se cambio questa se io metto uno a uno applica modifiche anche questa diventerà uno a uno chiaro ok voi dovete sempre ricordarvi che quella che c'è qua deve corrispondere a questa ok perché se voi andate a fare questa cavolata nel senso di andare qua poi mi mettete eh scala personalizzata e mi mettete questa qua uno a due qua è un errore gravissimo nel senso che la scala che c'è qua non corrisponde a questa è chiaro è un errore grave da non fare assolutamente dunque sì sì ma me la me lo scrivi ok ok però alcuni alcuni mi lasciano eh magari riescono a fare è successo ancora di tutte le viste così cioè nel senso ipotizziamo che riusciva a fare con una vista sola tutto il pezzo ok e poi alla fine aveva messo visto non so perché aveva adesso eh scala personalizzata qua a questo punto eh qui risultava uno a uno poi io sono andato a vedere qua però era uno a due ok dunque il disegno è completamente sbagliato ok ma se in una vista per esempio quando facciamo tutte le viste e che si vede bene insomma tutte le quote dopo mettiamo magari quella 3d in parte per far capire come è fatto il pezzo come quella quella non ha scala dunque quella va bene qualsiasi va bene qualsiasi va bene qualsiasi comunque tu non sei obbligato a metterle quella quella che tu dicevi qua no nel senso aspetta che vado a cambiare metto dunque qua io vi consiglio di usare sempre scala del foglio poi nei casi particolari in cui voi volete per ragioni vostre mettere però ci mettete scala uno a due ok mettete la nota che quella vista lì è in scala uno a due ok quel pezzo lì quella quella o quel dettaglio di solito si fa il dettaglio no ma lo fa in automatico lui di mettere uno a due giusto ok ok allora a questo punto siamo qua cos'è che mi chiedevi poi l'altra cosa che mi hai chiesto un'altra cosa che dovevo dire no non mi ricordo più non dovevi chiedermi qualcosa no no solamente quella cosa lì della scala basta ah ecco ricordatevi questo dunque questa qui tutte devo tranne nel dettaglio che però nel dettaglio ci sarà che la scala è diversa ok ok dunque io la prima cosa che io devo mettere qua dunque io sono qua e ho la vista il disegno poi se io vado qua tasto destro ok modifica formato foglio io entro nel sottofoglio quello del cartiglio ok e posso andare a modificare determinate cose ci siamo ok allora naturalmente se voi vedete qua ok c'è questo poi ci dovrebbe essere un'altra scritta ok qua vediamo se la trovo questi qua perché per esempio se io vado adesso a mettere vediamo se vado a salvare faccio file salva ok e vado vedere se è stato messo il materiale o il materiale è stato messo però lui non prende probabilmente non prende andiamo a vedere qua in proprietà metto qua personalizzato specifico perché qua non c'è nulla ok vabbè andiamo a vedere qui sulla messa in tavola qui allora ipoteticamente dunque io vado a modifica formato foglio ok dunque vado modifica formato foglio qua cos'è che ci devo mettere dentro che servono ok che che cos'è che devo metterci dentro che mi dice la prima cosa che devo mettere dentro il nome del disegnatore sì ok mettiamo qua per esempio io clicco qua di solito questi valori sono collegati ma quando clicco si discollegano a certi a certi valori dunque io posso anche scrivere e mettiamo pippo ok mettiamo pippo vabbè mettiamo pippo giuseppe pippo ok il nome del disegnatore giuseppe pippo poi cos'è che ci va beh la data la data è a questo punto vedi qua è collegata col drown do date siccome non c'è ok clicco io e metto la data che oggi è il 22 04 20 21 ok va bene poi se sono un po largo questa io posso anche cancellarla ok mi posso cancellare questo la firma la cancelliamo perché già tanto non ce l'abbiamo questo lo metto in mezzo ok va bene ci siamo dunque posso anche metterlo quando nel momento che faccio qua ho salvato e faccio file salva ok posso ritornare aprire quante volte volte quante volte voglio dunque modifica formato foglio cosa mettiamo altro beh il titolo del disegno il titolo dal disegno dunque possiamo spostare questo qua giusto questo qua vediamo lo sposto ok e questo qui qui c'era un'altra cosa che cancello ok e numero del disegno andiamo a mettere anche il numero del disegno dunque vado a prendere una nota e vado a mettergli qua non so il codice del disegno perché il codice dovrebbe avere un codice univoco giusto perché questo si chiama si chiama nome il titolo poi però ogni ogni file dovrebbe avere un codice univoco che noi è nel nostro gestionale ok nel nostro magari se è un prodotto di un'azienda che ogni prodotto ha un numero si si al codice ok ipotizziamo che sia questo codice è un codice univoco ok e lo mettiamo qua ok vedete che io posso scrivere chiudo qua poi alla fine non mi interessa risulta ed è a posto ci siamo dunque prima cosa voi potete cambiare il cartiglio ma non cambiatelo qui dovete fare tasto destro modifica formato foglio ok poi cosa mettiamo qua dovremmo andare anche a vedere cos'è che cambiamo cos'è che mettiamo cos'è che ci serve sicuramente in un disegno le tolleranze generali ok dunque le tolleranze generali andiamo qui giusto cosa mettiamo allora dunque modifica formato foglio le mettiamo qua giusto ok cosa mettiamo le m con le medie ok la normativa te la ricordi eh no adesso ok ok allora io nessuno se lo ricorda se vuole proprio vado a cercarla sul libro eh 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 sì sì qualcun altro se le ricorda non ti ricordi eh vediamo chi samuele mi senti samuele prof forse forse lo trovate eh ma samuele non mi risponde aspetta che adesso arrivo ah quello con la t ah giusto hai ragione ma già scusa non avevo visto che avete sì prof eh volevo chiederti ti ricordi le normative sulle tolleranze dimensionali che non mativa si bravissimo si perché devo metterla quella della devo mettere eh mi era mica uni sì uni che cosa eh proprio non mi ricordo il numero ok non ti ricordi eh Mattia ti ricordi tu sulle tolleranze generali è uni e n 22 768 e il trattino della per mettere mf a seconda del tipo di tolleranze se fine o media sì sì ok allora dunque ha trovato Michele la trovate eh ok dunque noi qua io cancello ok cancello e vado a mettere una nota e vado a mettere iso perché io cominciamo a usare la iso che è uguale identica alla uni e n 22 768 ok comunque cominciamo a mettere eh iso iso eh qua possiamo anche mettere staccato 2768 trattino a questo punto m piccolo mettiamo k grande ok iso 2768 trattino se vogliamo mettiamo staccato vediamo se sta meglio staccato così ci sta e mettiamo così ok non usiamo la iso ma usiamo non usiamo la uni e n ma usiamo la iso che è uguale identica eh solo che si toglie un 2 è uguale identica va bene vi ricordate questo ok ok dunque iso 2768 naturalmente maiuscolo non fatemi minuscolo 2768 trattino m minuscolo e k maiuscolo ok k adesso dovrei avere eh indicano le tolleranze generali dopo andremo a vederle ok cominciate a abituarvi che ci vuole anche una una seconda lettera questa seconda lettera mentre la prima indica una tabella eh una riga eh di una tabella a seconda delle dimensioni ok ehm per le tolleranze dimensionali la k invece indica la stessa cosa però per le stessa cosa indica sempre una riga però per le tolleranze geometriche ok dunque cominciamo a mettere questa qua fondamentale di iso 2768 trattino mk ok dunque io chiudo ricordatevi che questa ci va sempre perché uso la iso e non uso la unien perché uso la iso perché a questo punto nel momento che uso la iso non sono obbligato perché ne basta che ne uso uno non sono obbligato a elencare le altre normative di riferimento eh del disegno cioè se io uso la finitura ok se uso la rugosità la rugosità eh i simboli rispecchiano ehm come si dice le iso la la normativa iso eh per la rugosità e dunque non devo andare a elencarla basta che ci sia una normativa iso elencata a questo punto il disegno cade dentro nella iso mentre se metto unien questo non vale ci siamo è chiaro il concetto? quindi basta che metto una volta iso nel disegno e poi tutte le altre normative sono iso sono iso ok e non devo elencarle dunque io nei disegni che darete a me elencherete solo questa qua e dunque tutto quello che metterete tutti i simboli seguiranno in automatico devono seguire in automatico la iso sono tutti simboli iso è chiaro questo? e non devo elencare la normativa della rugosità non devo elencare la normativa su l'indicazione del delle come si dice dei trattamenti termici non devo indicare nulla basta una vuol dire che quel disegno è iso ok ci siamo? segue tutti i simboli seguono la iso ok dunque poi cos'è che mi manca altro cos'è che mi manca? te è obbligatorio da mettere siamo obbligati materiale materiale ok dunque il materiale adesso andiamo a vedere perché io devo aver cancellato qualcosa qui qui non ci vedete che ogni tanto vedo dei simboli adesso non vedo più niente perché devo aver cancellato tutto erano delle iscrizioni collegate vediamo se ah perché non sono in nel ok non ero dentro ecco perché non vedevo ok qui non vedo elencato niente dunque posso scrivere tranquillamente ok o cancello scritto dunque non c'è stranamente non c'è quello sul sul coso dunque io vado a mettere mettiamo qua ipoteticamente adesso io non mi ricordo che materiale avevamo usato su questo aspetta che vado a vedere avevamo usato un 41 e 41 cr4 se no 1.7035 ok dunque io vado a mettere qua vado a mettere materiale oh vedete questo vedete che c'è qua c'è qualcosa questo qua è un qualcosa che è un collegato scusate guarda qua guardate qua non è collegato al 3D eh potrebbe essere qua è un property sheet ok se vado qua se io ho elencato il material nel nel 3D teoricamente me lo mette qua ok però qua c'è sempre il problema che in realtà se tu vai a vedere le proprietà si chiama material ok comunque io questo qui questo qui se clicco due volte si perde il collegamento e dunque posso scrivere quello che voglio ok se lo voglio al lavoro è tutto collegato quando disegniamo noi se volete collegarlo lo mettete collegato se non volete eh lo potete scollegare ok dunque io qua metto come volete voi eh potete fare quello che volete voi ok scusa un attimo io metto che come si chiamava il materiale che non mi ricordo più 1.4 no 1.7035 ok andiamo a vedere chiudo salvo vado a vedere ok 1.7035 eh scusate un attimo che differenza c'è tra 1.7035 e 41 devo mettere entrambi o posso mettere solo uno dei due e che me lo dice Andrea me lo dici tu basta questo o devo mettere o devo mettere anche l'altra designazione Andrea credo basti questo bravissimo ok basta o uno o l'altro ok ci siamo che differenza c'è tra le due designazioni ti ricordi l'avete fatto no questo non me lo ricordo chi è che se lo ricorda beh proprio il 41CR non non sta a indicare che tipo di acciaio è tipo CR cromo penso sì 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 e che differenza e questa qua invece questa è solo numerica quella là è alfanumerica è di classificazione in senso dunque io posso usare tutte e due uno o l'altro ok l'uno indica andiamo guardate qua questo qua quando io vado a scegliere i numeri eh se i numeri materiale aspetta un attimo eh guardate qua andiamo sulla camma ok io potevo andare benissimo a cambiare modifica materiale ok e solidox din materials ok quando io per esempio vado sugli acciai vedete che hanno questa designazione solo numerica e questa qua alfanumerica questa all'alfanumerica corrisponde ai componenti principali chimici qua invece questa qua non ci sono componenti eh chimici ok è semplicemente un elenco l'unica cosa che voi potete sapere è che quando è uno è un acciaio se voi poi andate a vedere di solito quando è zero è una ghisa di solito però vedete che vi trovate delle ghise anche con uno ok poi se voi andate a vedere per esempio delle leghe di rame le leghe di rame iniziano con due ok le leghe di alluminio iniziano con tre questa è la designazione accettata a livello internazionale però di derivazione tedesca ok dunque voi ed è solo numerica cioè solo il primo numero mi indica che tipo di materiale è tutti gli altri tutti gli altri numeri fanno parte di un elenco questo elenco in cui c'è un elenco ok dove eh quel numero lì indica un tipo di materiale ok nel tempo questo elenco viene aggiornato dunque a seconda dell'anno certi acciai che non si usano più vengono non più vengono cancellati e vengono rimessi dentro in questo elenco altri tipi di acciai a questo punto a seconda dell'anno ok potrebbe essere così vabbè da un punto di vista teorico potrebbe essere che io indicando per esempio un acciaio ehm uno virgola undici uno punto undici novantatré in un determinato anno indicavo un tipo di acciaio sono passati vent'anni quella stessa sigla indica un altro tipo di acciaio mentre mentre il c45g è sempre il c45g ci siamo la differenza tra i due sono due ehm designazioni leggermente differenti quella solo numerica quella col col uno col due punto quei quattro numeri è stata imposta dalla Germania ok perché era di derivazione tedesca è chiaro questo? dunque potete usare o l'uno o l'altro è chiaro questo? ok va bene a questo punto adesso manca ancora qualcosa però cos'è che manca? dunque scusate un attimo quando mi fate la messa in tavola queste cose non devono mancare se no io non guardo neanche il disegno soprattutto non deve mancare la scala io posso sui nomi posso transigere ok però sul materiale no sul su questa normativa no sul nome posso anche cioè nel senso già tanto so che è vostro ok cos'è che mi serve anche proprio perché scusate questo qua da che è che mi risponde questo? perché secondo voi questo qua è importante questa normativa al di là di richiamare tutte le normative e dunque mi dice ok io sono sicuro dunque io potrei teoricamente anche mettere anche mettere un'altra normativa però dovrei comunque mettere MK ok dovrei mettere in qualche modo tolleranze generali MK a questo punto io so che essendo ISO fa riferimento a questa ok ci siamo io posso avere un disegno senza tolleranze però adesso Walter mi rispondi tu posso usare un disegno senza tolleranze sì o no secondo te Walter secondo me sì e quando senza tolleranze né né generali perché queste come le chiami queste tolleranze come le chiamiamo queste questa normativa che tolleranze mi fa in specifico le tolleranze generali generali ok perfetto cosa intendi per tolleranze generali cosa intendi cosa intendi eh in che senso cosa intendo eh cosa significano si vede ancora tolleranze generali ok scusa un attimo ma si vede ancora il disegno della camma sto proiettando io sì ok eh ma ho capito ma me le spieghi a parole tue cosa sono le tolleranze generali e tolleranze generali dimensionali cosa sono a parole tue ho capito tolleranze generali però me lo puoi spiegare in modo semplice semplice cioè io non so cosa sono le tolleranze generali cioè la tua morosa che ha fatto ragioneria vuole dire mi hai detto ho sentito tolleranze generali in un disegno tu sei un meccanico dimmi cosa significa cosa gli dici alla tua morosa ipotizza che io sia la tua morosa ok sono un po' brutto però poi mi mancano i capelli e dunque non è cioè devi avere una grande immaginazione una grande grande immaginazione dimmi ma non saprei profe e come non sai nel senso tipo per semplificare eh per rendere più facile il disegno si potrebbe una per per tipo semplificare le indicazioni di lettura si quello si ok 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 però non ho ne ancora capito bene ok cosa cosa vediamo se Andrea riesci a dimmelo tu secondo te cosa sono queste tolleranze queste tolleranze generali una cosa a retta giusta Walter nel senso ha detto servono per però io ho chiesto cosa e hai ragione nel senso hai ragione sono le tolleranze minime che devi mettere ok le tolleranze minime cosa intendi per minime quelle base ok quelle base cioè cioè fammi un esempio tipo la circonferenza esterna eh allora la circonferenza esterna questa qui dici no questa che è aspetta un attimo che vado a fare questo e poi vado a metterlo in diametro ok e vado giù ok perché non mi va giù qua ok eh questa qua ok dunque questa qua dimmi dunque minima perché è perché mi dice almeno quanto deve essere largo un pezzo non ho capito scusa puoi ripetere perché ho sentito rumore dimmi è minima perché mi dice quanto deve essere almeno largo il pezzo allora è minima dunque aspetta un attimo aspetta un attimo allora fammi capire una cosa dunque tu mi dici le tolleranze generali sono quelle minime ok mi hai detto così tu giusto sì quelle che minime per fare il disegno perché è proprio base base ok ok dunque tu sostieni questo ok eh allora le tolleranze io sono un'officina meccanica ok guardo le tolleranze generali e dico sì sono in grado di farlo o no non sono in grado di farlo giusto è questo che intendi tu sì ok ok va bene eh allora eh senso che si potrebbe dire ok io so che devo tenere il medio ok a questo punto io so che normalmente producendo senza troppa attenzione io riesco le mie macchine riescono a tenere il la lettera m ok quella quella quelle tolleranze nella tabella della iso 2768 ok ok da un punto di vista poi pratico cos'è che quelle tolleranze generali sono da un punto di vista poi pratico cioè ti faccio la domanda nel disegno tutte le quote hanno una tolleranza o no sì tutte le quote hanno una tolleranza ok e quella tolleranza qual è è dipende dall'esigno cioè sul 110 tu che tolleranza tu mi hai detto che quel 110 è una tolleranza giusto sì ok che tolleranza è come fai a vederla voglio saperla adesso non è tipo implicita dentro le norme e cosa vai a vedere allora devo andare a vedere la norma e come fai devo andare su google non so sui manuali non hai il manuale di meccanica ce l'hai lì adesso no eh ok allora se avessi il manuale di meccanica cosa fai andrei a cercarmi la norma quale guardare quale la ISO eh dimmi il nome il numero la 2768 MK ok dunque vai a vedere la ISO 2768 ok che è equivalente alla UNIEN 22768 e cosa fai fisicamente cos'è che fai cioè la vai a vedere e come fai a vederla hai mai sei mai andato a vederla no io no chi è che è andato di voi a vedere effettivamente quel 110 lì che tolleranza nessuno è mai andato a vederla eh Matteo cioè è andato a vederla Matteo M muore eh Matteo magari l'anno scorso però non sono molto sicuro eh ho capito e come fai allora allora ti ricordi eh se non sbaglio tipo c'era la tavella e a seconda della M bisogna vedere c'era più o meno il numero bravissimo dunque c'è una tabella in orizzontale ci sono le quattro lettere in verticale cosa c'è? ehm ah eccoli ah ok ora ho capito tipo i range di dimensioni dunque io guardo nella tabella guardo il 110 che range c'è eh prendo la riga della M e vedo che quella tolleranza è lì ci siamo ok a questo punto quello lì io non allora ha ragione Walter dicendomi a questo punto io non metto ipotizziamo che quanto è Michele sul 110 con la M quanto è? più o meno 0,3 0,3 perfetto dunque se io vado a mettere qua vedete quando vado qua metto la tolleranza ok metto simmetrica simmetrica altra considerazione ricordatevi quella generale sono sempre simmetriche ok sono sempre simmetriche se voi andate a fare un accoppiamento e volete con gioco state attenti che non è detto che sempre la simmetria sia utile ci siamo ok a questo punto se io volessi mettere metto 0,3 giusto ok ci siamo a questo punto cosa han detto siccome come diceva poi giustamente Andrea siccome queste tolleranze sono tutte diciamo come si può dire sono quelle che io riesco a fare tranquillamente in officina e siccome come diceva Walter non voglio appesantire il disegno si sono inventati questa tabella in cui ci sono mettono questa dicitura ISO 2768 trattino M a questo punto questa quota qui questa tolleranza di più o meno 0,3 io posso anche far senza metterla ci siamo e dunque qua metterò nessuno e questo mi facilita la lettura del disegno è chiaro? dunque questa ci va ok ok chiaro adesso chiarissimo va bene c'è un caso in cui di una quota che non segue le tolleranze generali di un tipo di quota che non segue le tolleranze generali secondo voi c'è Luca chi è che me lo dice qualcuno ha detto sì 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 però ho detto io qual è beh ci sono delle tolleranze specifiche per esempio se ci deve passare magari nel foro ok dunque quelle ok dunque quelle che hanno le specifiche ok non seguono quelle generali dunque se questa qui dunque arriviamo a questa domanda che poi chiudo scusate un attimo ok eh sì dove di solito prof mi serve più precisione o deve essere ad esempio un foro che per interferenza o qualcosa vado a mettere la specifica così sono sicuro che quel foro lì sarà lavorato in modo da ok scusa un attimo allora poi l'altra domanda è la ricambio esistono delle quote che non hanno nessuna tolleranza proprio che non hanno né quella generale né quella specifica quelle tra parentesi hanno le tolleranze no no dunque esistono poi vi farò vedere che esistono anche un qualcos'altro ok però quello dobbiamo andare a parlare delle tolleranze geometriche ok che sono particolari con l'introduzione delle quote che vengono chiamate TED theoretical exact dimension però quelle tra parentesi non hanno tolleranza nessuna tolleranza perché quelle tra parentesi che quote sono? sono quelle che indicano più o meno quanto dovrebbe essere sì e non servono non servono al disegno le ho messe lì tanto per far capire che per non far fare un conto così al al per essere sicuro però anche quelle non bisognerebbe metterle ok però non sono importanti anche se se devo metterle perché mi dico magari quello là non capisce allora gli metto quella quota lì però non sono quelle funzionali non quella quota lì la posso dedurre da altre quote e dunque non ha la tolleranza perché se mettessi la tolleranza sarebbe un casino ok perché a questo punto mi sballa il discorso delle tolleranze se faccio la somma delle tolleranze la somma potrebbe essere diversa da quella quota che ho se la somma di due quote e a questo punto preferisco mettere tra parentesi e quella quota lì non ha non ha assolutamente tolleranze ok va bene andate a vedere adesso io chiudo ok aspetta che io stoppo la registrazione vediamo vado qui e interrompi la registrazione o Grazie a tutti.